Fabrizia Ottavio che ricordi ha dei giochi al Mediterraneo 2009? Un po' particolare per una ragazza, quella di sindaco del villaggio Atleti che sicuramente ricorderò e che mi ha dato modo di sperimentare delle attività completamente nuove che fino all'anno prima ad Atleta assolutamente non avevo neanche mai immaginato. Quest'anno i giochi al Mediterraneo sulla spiaggia, primissima edizione in assoluto, si terranno a Pescara dal 28 agosto al 6 settembre. Cosa devono aspettarsi i tanti turisti che verranno nella nostra città? Sicuramente ai turisti spetta un grande spettacolo, un grande spettacolo di sport e soprattutto discipline particolari perché sono tutte discipline legate al mare, alla sabbia, alla spiaggia, quindi di per sé anche molto estive e molto allegre, adatte al clima vacanziero. Dall'altra sicuramente avranno modo di scoprire una città che negli ultimi anni a mio parere è cresciuta tantissimo, ha rinnovato molte delle zone magari un pochino più vecchie, più obsolete e quindi sicuramente un grande spettacolo. Credo che la città si riempirà e sarà in grado di in qualche modo far da cornice perfetta queste gare sportive. Grazie a Fabrizia e a Ottavio. Grazie a te. Grazie a te.